Benvenuti perciò a questo webinar dedicato alle soluzioni di Nucleus Connect. Cosa vedremo? Vedremo sostanzialmente la configurazione delle principali funzionalità che sono presenti appunto in Nucleus Connect. Non è la totalità di tutte le cose, ma diciamo la maggior parte delle funzionalità appunto presenti. Nucleus Connect si differenza rispetto a Nucleus Cloud per il fatto che sostanzialmente è un software che si può installare appunto sul computer oppure è presente in un controller chiamato di NH100 che comprende al suo interno già il software di Nucleus Connect e si differenzia sostanzialmente per il fatto che il software che si abbina a questi access point è un software free mentre il DNH ovviamente ha pagamento ma si paga solo la parte dell'hard non del software appunto caricato a bordo. L'altra cosa che differenzia sostanzialmente Cloud da Connect è che nel Cloud gli access point sono praticamente gestiti solamente in modo centralizzato invece in Nucleus Connect gli access point possono anche essere gestiti localmente per cui hanno un loro upgrade firmware un loro pagina di configurazione via web che sostanzialmente permette a loro di essere installati senza l'utilizzo di Nucleus Connect. Nucleus Connect inoltre è un software che se nel caso appunto non venisse utilizzato permetterebbe lo stesso agli access point di funzionare per cui gli access point comunque continuano a funzionare all'ordine del vero la stessa cosa avviene con Cloud nel momento in cui anche gli access point non sono collegati al Cloud perché continuano a funzionare anche se non hanno la possibilità della gestione. La stessa cosa avviene anche appunto su Nucleus Connect se il software viene spento o non è presente gli access point continuano a funzionare. In realtà ci sono alcune funzionalità invece appunto da puntualizzare sul Nucleus Connect che nel caso in cui però il software sia spento non funzionano, non sono presenti cioè gli access point funzionano ma queste funzionalità non sono attive. Una è la gestione sostanzialmente automatica della potenza perché è fatta dal controller non dell'assist point mentre la gestione del canale continua ad esserci tranquillamente a livello locale e l'altro sono una forma di ticketing legato al capital portal che viene erogato sostanzialmente dal Nucleus Connect che per cui nel caso in cui il Nucleus Connect si è spento non può essere generato per cui il ticketing, la funzione dedicata di capital portal tramite un ticket non può essere erogata nel caso appunto il software non funziona oppure non è presente. Per il resto la maggior parte delle altre funzionalità sono tutte attive e continuano ad essere funzionanti anche nel caso appunto Nucleus Connect non funziona. Ovvio che noi consigliamo di tenere Nucleus Connect comunque attivo perché Nucleus Connect attivo permette di monitorare tutta una serie di situazioni, di statistiche, di dati che vengono diciamo centralizzate cosa che non sarebbe potuto ottenere nel caso appunto il software non funzioni. Per cui in realtà non è obbligatorio ottenerlo ma noi consigliamo appunto di tenere comunque attivo all'interno della rete per tutta una serie di funzionalizzazioni, di sincronizzazione che Nucleus Connect come software fa nell'arbitro del suo collegamento con gli access points. Vediamo ora la configurazione. Installazione iniziale. Allora l'installazione iniziale prevede sostanzialmente che di scegliere appunto il programma cioè nel senso che di scegliere quale programma si vuole sapete che Nucleus Connect è disponibile sia per la piattaforma Windows o Linux poi è necessario controllare che i firmware degli access points supportino Nucleus Connect generare tutti gli firmware degli access points che iniziano con la lettera 2 a differenza dell'1 in quelle macchine che avevano erano presenti anche prima mentre in quelle nuove non c'è questo programma diciamo delle macchine che sono transitate dal vecchio sistema al nuovo la lettera 1 indica davanti al firmware indica il vecchio firmware che funziona ancora col vecchio software chiamato il Central Wi-Fi Manager cioè il CWM mentre quelli che iniziano con il 2 identificano sostanzialmente quelli che lavorano con Nucleus Connect a parte però la questione del firmware altro elemento che permette di definire se l'assess point è già all'interno di un mondo oppure del vecchio oppure del nuovo mondo è il fatto che nel nuova generazione, nei nuovi firmware gli access point vengono messi in DHCP client per cui si presentano non con un IP statico ma già in DHCP client per cui se prendono automaticamente un IP dal DHCP vuol dire che hanno già all'interno il funzionamento praticamente per Nucleus Connect questo per facilitare in pratica alla fine sostanzialmente la loro connessione anche da remoto perché in questo modo essendo un DHCP client possono essere inseriti nella rete in modo trasparente hanno la funzionalità NAP, PASTROOC, gli permette di poi passare il router e poi ho scelto di raggiungere sostanzialmente il nostro software se è installato in modo remoto perciò una facilitazione da questo punto di vista in ultimo è possibile ma non è obbligatorio avere un'app per iOS o Android attualmente iOS è già pronta e disponibile per Android ancora in fase di sviluppo l'app iOS è un elemento in più che permette di configurare e di ostire il sistema tramite appunto telefonino oppure di andare a fare tutta un'altra visualizzazione tipo la gestione 1.1 dell'assist point senza anche utilizzare Nucleus Connect per cui l'app è un altro elemento corollario che completa un po' tutti quelli che sono elementi ma comunque per quello che concerne quello che vediamo adesso oggi è necessario primi due elementi cioè scegliere il programma cioè che tipo di installazione fare per Windows e Linux e in funzione di quello che sono le caratteristiche della macchina avere perciò uno scenario che gestisce fino a 1006 point tipo oppure fino a 1000 e nel secondo caso controllare che le versioni dei firmware siano già compatibili con l'installazione di Nucleus Code fatto questo lavoro cioè questa azione diciamo preliminare si parte con l'installazione del software qua ho lasciato i passaggi tutti automatici in realtà vengono chieste le porte che vengono utilizzate per la connessione e porte che poi possono essere anche e successivamente cambiate supponiamo di lasciarle tutte le porte di default si va avanti con i vari passaggi e alla fine si arriva alla fine dell'installazione viene creata perciò alla fine sul desktop una cartella un desktop contenente un contenente di tre cose un Nucleus Connected Service Configurator per i servizi il Nucleus Connected è vero e proprio quello non installa per la installazione successivamente se non è caricato già all'interno del sistema ma in fase start up non può essere così un certificato si accede si clicca su Nucleus Connected si va su questo sito non sicuro perché bisogna attivare la modalità non HTTPS e sostanzialmente si accede si accede all'account mettendo diversi dati vediamo quali sono questi dati i default sono admin, admin e poi va messo un codice di controllo per entrare nella fase successiva immediatamente essendo la prima fase di start up per cui siamo proprio nella fase iniziale dell'installazione viene già chiesto di modificare la password per cui partendo dalla password di default che è admin iniziate la vostra password nella fase successiva per cui siamo già entrati nel dispositivo abbiamo cambiato la password viene chiesto praticamente di inserire alcuni dati questi dati sono l'indirizzo IP di Nucleus Connected e gli IP devono portare pingare questi IP cioè sostanzialmente definire qual è l'IP del software dove è l'IP allora in questo caso siccome questa configurazione guidata è stata fatta vedendo il discorso a livello locale è ovvio che metteremo un IP locale nel caso invece l'IP sia un IP geografico perché gli access point non sono dislocati sostanzialmente in modo locale ma a remoto lì verrà inserito l'IP pubblico sostanzialmente a cui gli access point devono arrivare poter arrivare questo IP è di fatto un IP che deve essere raggiungibile degli access point e perciò come controllo gli IP devono poter pingare questo IP la porta di accesso può essere lasciata default a 84-43 e poi viene chiesto di identificare il fuso orario il paese relativo e cliccare su avanti in questa fase viene chiesto poi di creare il sito e il nome della rete cioè viene chiesto di creare subito un site perciò un nome di una rete in questo caso come nome della rete come site intendiamo praticamente il contenitore delle reti nel caso che si vede sarebbe D-Link che comprende la rete di Bionegroni ma potrebbe comprendere la rete di Roma la rete di altri filari di D-Link se fosse D-Link Europa il nome della rete potrebbe diventare la rete di Milano la rete di Marcellona la rete di Londra cioè le rete delle varie sedi di link dislocate ogni rete poi corrisponderà a tutti gli access points che sono inseriti per cui in questa prima parte vi viene chiesto di creare un site e il nome della rete che il sito e i nomi della rete dove si trovano all'interno del site fase 6 in questa fase viene chiesto di creare e configurare la rete wifi relativa alla rete precedente data cioè in pratica vi dicono vi viene detto tu hai creato sostanzialmente una rete un site un network in questo network che cosa mettiamo a livello di SSD io di solito faccio una configurazione minimale cioè nel senso non faccio altro che inserire il nome della rete e inserire una password cioè il minimo senza sostanzialmente poi andare a inserire tutta un'altra serie di dati che poi potrò aggiungere appunto successivamente l'altra cosa importante è l'impostazione del dispositivo cioè qua vedete sotto c'è Italia il fuselare ma viene chiesto nome e password allora questi due dati sono fondamentali perché se la password è default e l'user la password è default e abbiamo detto essere admin in admin va bene però in realtà quando voi sostanzialmente andate a installare gli access point o andate a vedere gli access point via web e configurate ad esempio qualcosa vi viene chiesto già automaticamente di cambiare la password cioè questo è in fase di access point cioè viene detto per sicurezza quando tu installi gli access point cambia la password per cui il consiglio che vi do è quello di andare comunque lasciare pure gli access point in DHCP client senza nessun problema ma di contattarli e perciò di entrare dentro poi negli access point definire una password perché anche per una questione di sicurezza su tutti si può lasciare anche lo user admin su un problema definire una password e salvarla finito questo lavoro entrare all'interno del nostro software e cominciare questa procedura per cui nella fase diciamo di start up iniziale aggiungerei anche non solo aggiornamento del firmware da controllare ma anche se già aggiornato di controllare comunque di mettere già la password perché comunque è un elemento importante che aumenta il livello di sicurezza definito appunto la password di gestione di access point questa password può essere inserita qua ed è la password con cui lui sostanzialmente poi passerà il profilo agli access point attenzione che se la password è sbagliata cioè perciò lasciate quella di default non la cambiate dopo il nostro appunto software non sarà in grado di passare la configurazione agli access point e di conseguenza non funzionerà cioè bisognerà ritornare a rifare la procedura per permettere appunto agli access point di essere visti per cui la password è una parte importante siamo sempre nella fase di installazione la 7 a questo punto sempre in questo wizard che viene proposto viene proposto un rilevamento questo rilevamento di IP permette già di catturare l'IP all'interno della rete se la rete è una rete dove gli IP sono già presenti è molto semplice parte il rilevamento gli IP vengono trovati e sostanzialmente basta selezionarli qua sotto poi viene già proposto come vedete ancora il discorso della password cioè controllate che sia valido cioè viene riproposto per cui controllate che la password qui qua corrisponda con la password sostanzialmente che poi avete messo nell'assess point vi basta poi applicare e vedrete che poi comincia a lampeggiare questa barra e alla fine del lampeggiamento cosa che qua non ho fatto vedere dal punto di vista di filmato ma ve lo spiego alle luci alla fine del lampeggiamento vuol dire che il nostro software avrà iniettato all'interno sostanzialmente dell'assess point la configurazione e cosa porta all'interno della configurazione porta una serie di dati non solo l'SSD ma porta soprattutto l'indirizzo IP a cui gli assess point devono puntare per poter essere visti dal nucleus connect per cui ovvio che è una cosa molto importante a questo punto mi disformerei due secondi per spiegarvi un attimino cosa succede nel momento in cui voi fate un test e di fatto questo test poi dopo ha un IP ma poi dopo andate dal cliente e l'IP è diverso è ovvio che se voi testate localmente la rete per vedere se gli assess point funzionano e iniettate all'interno della configurazione un IP questi IP gli assess point vedranno sempre questi IP e sostanzialmente cosa succede che se poi dopo voi andate dalla rete del cliente e l'IP del controller è diverso la cosa che vi capiterà è che gli assess point non potranno avere il nucleus connect perché l'IP del controller è diverso dall'IP dell'assess point sarà necessario fare che cosa perciò riniettare la configurazione dell'assess point fare in modo o resettarli in default oppure di riniettarli all'interno dell'assess point è presente una finestra nella parte tools che permette di nella parte in alto nella barra dove c'è tutta la parte di gestione sostanzialmente non tanto delle funzioni è presente un menu che permette di disabilitare il nucleus connect o permette di caricare il nucleus connect perciò ecco nell'eventualità potete caricare anche il file di nucleus connect direttamente nell'assess point vedremo adesso come si carica questo file non ci siamo ancora arrivati cioè per ora noi abbiamo rilevato stiamo inserendo vedremo poi come questo file si può editare trasportare e iniettare successivamente nell'assess point questa è una procedura che vale o per il cambio dei dati se questi dati vi accorgete non sono più corretti sostanzialmente di P che è l'elemento più importante o se no serve anche per farlo in un secondo tempo cioè io ho degli assess point che non ho installato mi sono salvato il profilo lo inietto poi una volta che ho iniettato nell'assess point chiudo il pacchetto lo spedisco al cliente lui lo collega sappiamo che già in DHCP client il processo sostanzialmente vedrà il nostro apparato per cui anche qua un elemento da considerare ma detto questo torniamoci focalizziamoci sulla parte iniziale siamo ancora in installazione iniziale per cui abbiamo creato una serie di parametri che sono le SSD abbiamo visto abbiamo fatto il discovery abbiamo iniettato alla fine di tutto ciò siamo alla fase 8 e sostanzialmente dovremmo vedere nella parte monitoraggio perciò nella sezione monitoraggio dobbiamo vedere che l'assess point è verde qualsiasi altro colore sostanzialmente è differente dal verde vuol dire o che l'assess point non è raggiungibile rosso arancione vuol dire che l'assess point si sta registrando cioè vuol dire che i dati sono corretti ma non è ancora in grado di funzionare quando è imperfettamente funzionante in grado di funzionare dovrete vedere il tasto verde e dovrete vedere anche l'informazione da lato ciò di fatto l'assess point a questo punto è completamente operativo se l'AP perciò non viene vista dal sistema oppure se si vuole caricare direttamente il file ecco quella procedura che vi spiegavo una volta creato qua supponiamo che l'assess point per variati motivi a me qualche volta anche sconosciuti nel senso che incomprensibili o difficilmente diagnosticabili capita che pur avendo fatto tutto il vostro access point comunque non arriva col bottone verde un'operazione che potete fare a livello perciò non tanto di installazione iniziale ma come funzionalità poi successiva di debug per capire cosa è successo per cercare di sistemare le cose è quello di andare sul profilo che si è creato perciò il profilo di link e andare sul campo esporta profilo di rete l'ultimo che si trova poi sulla destra prima della cerca degli access point questo profilo basta scaricarlo è il contenitore che comprende tutte le funzioni basta scaricarlo sul pc poi si accede al nostro access point a livello locale tramite i suoi indirizzi e si va nel menu configuration file upload download upload due class con network file cioè in questo menu del maintenance sostanzialmente e si sfoglia e si carica il file e perciò sostanzialmente o meglio scusate sì maintenance configuration file e poi si carica l'altra cosa importante è ricordarvi alla fine che però per attivare il file dovete fare configuration save and activate cioè perciò lo selezionate dal maintenance lo tirate su fate upload finito andate in configuration e fate save and activate nel momento che fate questi due passaggi avete caricato a bordo il file di configurazione ecco perciò questo è quell'elemento che vi permette di installare l'assess point o fare il debug o installarlo successivamente cioè perciò avete il profilo di configurazione del cliente e di conseguenza tutti gli access point che lui vi chiederà di aggiungere all'interno della vostra data lo potrete fare tranquillamente anche localmente grazie al fatto appunto di poter fare questo lavoro qua esportando il file e perciò ecco questo conclude la prima parte andiamo ora nella parte successiva a vedere quali sono le funzionalità cioè finora abbiamo visto solo la parte installativa andiamo a vedere invece la parte successiva che sono invece la creazione dei site e dei network per la installazione dei site e dei network si può aggiungere tranquillamente da wizard facendo il campo aggiungi rete ma ci sono tanti mezzi e fare avanti a questo punto facendo avanti io definisco una nuova rete mi trovo scusate sono passato ovviamente ho definito una nuova rete prima questa rete qui mi trovo una maschera di equivalente più o meno come avevamo fatto precedentemente e sostanzialmente o meglio una nuova rete devo aggiungerla qua mi sono un po' sconfuso qua aggiungi ssd opzionale e qua vado a mettere un altro ssd per cui sto creando il multi ssd in questo wizard e perciò il nome mi dice qual è il nome della nuova rete partendo dal nuovo ssd è Roma guest e faccio avanti e nella maschera successiva esci ho fatto questa wizard vedrò comparire le due reti vedrò nome sito vedete io ho messo all'interno di qua e vedrò praticamente un'altra rete e tutte queste rete si possono modificare perciò io posso andare in modifica rete e aggiungere un altro ssd perciò io posso fare tutta una serie di installazioni e posso aggiungere però n reti all'interno della questione legato al fatto che io appunto tramite questi campi posso andare a modificare il profilo aggiungere ssd e perciò giocare un po' tutto con questo discorso vedete poi che tramite la voce modifica profilo ho accesso alle reti guest create perciò sostanzialmente poi per ogni nome di rete barra rete che ho creato io ho la possibilità di andare a modificare il profilo e di andare a fare tutta una serie di azioni ecco nell'eventualità poi io decido invece di spostare un access point da una rete all'altra cioè perciò da un network all'altra ho la possibilità di farlo in questo caso io posso farlo tramite che cosa un bottone che è questo che si trovava qua che si trova qui vuol dire ap senza gestione quando io metto le ap senza gestione gli sgancio dal profilo dove sono dentro sostanzialmente e di fatto li porto in un'area dove non ho gestione e dove poi successivamente li posso abbinare in questo caso sostanzialmente a questo punto seleziona la p senza gestione sempre dalla mia parte dove ci sono tutte le mie reti o dalle mie reti dalla dalla parte appunto dove io vedo i vari i vari reti con gestito senza gestito e vedo il mio access point dopo di che io vado a selezionare sostanzialmente su questa parte con gestione c'è questo menu tendina vado a vedere la nuova rete e lo applico e in questo caso perciò l'assess point passa perciò nella nuova rete e va a essere gestita da una nuova rete nel caso sostanzialmente deve essere cambiato l'IP di nucleus connect basta andare in sistema impostazione connessione e cambiare l'IP l'altra cosa l'altra cosa importante è ricordarsi che sostanzialmente tutte le modifiche che io sto facendo tutto quello che io lavoro su tutto avviene sostanzialmente offline per cui quando ho finito tutto devo andare sulla rete e sostanzialmente definire passaggi informazioni questa schedulazione di passaggi di informazioni può venire immediatamente oppure in modo schedulato perciò vado a editare nel momento che vado a editare queste informazioni di fatto ho avuto di servizio all'interno della rete per cui va valutato in funzione appunto del momento in cui viene fatto la configurazione del profilo cioè che cosa vado a fare all'interno di questo profilo che poi associo alla rete all'interno del profilo perciò io cosa posso fare posso andare a modificare ad esempio l'SSD oltre all'SSD sono spiegate nella successiva perciò vedete tutto quello che si può fare all'interno per cui vado a fare sulla parte azione vado a cambiare all'SSD a questo punto posso andare a fare una serie di azioni che sono sostanzialmente quelle torniamo un attimo indietro quelle di andare a vedere sotto quello che c'è all'SSD per cui sotto qua si aprono una serie di campi che adesso vedremo a scoprire che non sono legati solo all'SSD ma sono legati alla sicurezza e tutto e ovviamente qua sotto come si vede nella lista di questi vari SSD qua vedete sulla parte sinistra SSD VLAN ottimizzazione tutti i cari campi e qua vedete gli SSD cliccando su ogni tipo ogni SSD barra primario questi sono i multi SSD ho le informazioni relative al singolo SSD che ho creato tutto contenuto in questo profilo che è poi il contenitore che io poi mando appunto agli Assesspoint configurazione VLAN se si devono impostare delle VLAN all'interno del sistema allora si abilita si va nella sezione VLAN del profilo perciò in questo momento abbiamo un attimino abbandonato la parte SSD e siamo nella parte VLAN abilitiamo e poi sostanzialmente poi si va sul campo aggiungi modifica VLAN allora questa è una parte fondamentale molto importante all'interno della configurazione deve essere capita chiaramente perché spesso la maggior parte degli errori in questo caso avvengono su questa rete è possibile che cosa avere diversi scenari all'interno della configurazione che partono nelle VLAN può esserci perciò uno scenario dove non ci sono e di conseguenza il multi SSD non è altro che l'altro SSD non è altro che una differenzazione per SSD barra password per cui posso avere l'SSD Milano l'SSD Roma con uno al nostro password però convergono tutte le informazioni sul medesima rete all'infine in questo caso invece noi decidiamo di fare una rete più complessa per cui una rete più complessa dove abbiamo un SSD associato a una VLAN associato a una VLAN vuol dire che poi questo SSD necessariamente per una questione anche di gestione di sicurezza avrà associato un determinato P però a questo punto andiamo a vedere come si passa la VLAN allora intanto ci deve essere all'interno del sistema deve essere collegato a uno switch che gestisce le VLAN e di conseguenza questo switch che riceve le VLAN deve essere configurato con le VLAN di riferimento che sono presenti sull'assess point in modalità tagged perché così vengono ingestite le informazioni del multi SSD ricordatevi che solo la VLAN di default viene gestita di fatto in modalità untagged nativamente per cui di fatto solo la 1 per cui di fatto le altre vanno taggate prendiamo ad esempio la creazione di una VLAN 2 allora abbiamo questi campi ogni tanto io cosa faccio ho selezionato le VLAN le abilitate vado nel campo VLAN e si disco il 2 e do un nome a questa rete che può essere guest dopodiché trovo tre sezioni la prima la seconda e la terza la prima sezione identifica che cosa che con non membro vuol dire che non appartiene a quella VLAN gli sto dicendo posso fare il management da questa VLAN no in questo caso no perché noi parliamo di una rete guest sto parlando per cui non voglio che l'utente che sia in quella rete sia in grado di contattare sostanzialmente la parte di management è ovvio che qui non si vede ci sarà una VLAN 1 qua dentro dove ciò è permesso ok all'interno non ho ancora cambiato per cui io sto solo giugnando una VLAN c'è una VLAN nativa che mi permette di fare il management per cui sulla 1 in questo momento si suppone che sia sta passando al management stiamo vedendo perciò una configurazione più semplice dove la 1 non è altro che la VLAN nativa non è altro che la VLAN di management in questo caso sia per magari il traffico interno che per il management di access point mentre stiamo dicendo che la 2 è la VLAN per gli ospiti che non devono vederla 1 e sostanzialmente devono poter fare il loro traffico tutto quanto ma sono isolati dalla VLAN del management per cui non vedono la VLAN l'altra cosa importante è fare sì che il tag come imposta tag la porta sia messa invece l'AN1 sia messa l'AN2 non è necessario l'AN2 normalmente è una porta che noi proponiamo in alcuni access point dove hanno alcuni access point hanno la doppia porta per l'aggregazione oppure hanno una seconda porta perché permette di non scendere a valle e perciò questo ha senso solo se io ad esempio collego a valle sostanzialmente altre periferiche oppure altre che posso dire un altro switch ad esempio collegato sotto collegato all'assess point ma in generale il settaggio della VLAN 2 è trascurabile non si configura non si mette perciò potete anche tranquillamente lasciarlo come imposta tag e lasciarlo con l'identico l'AN1 oppure metterlo come not member non membro o chi tanto non cambia assolutamente niente quello che importa è che l'AN1 si è messo come imposta tag qua è messa in italiano e sostanzialmente vuol dire taggata vuol dire che perciò l'informazione della VLAN 2 che sostanzialmente proviene dai client dove viene inserita nei client arriva all'assess point che la porta inserisce l'informazione 2 sul cavo di rete che poi le collega all'assess point e lo porta in giro questo è il primo settaggio fondamentale la parte successiva identifica invece l'appartenenza di fatto dell'SSD a quella VLAN ci sono solo due campi annulla tag e non membro annulla tag vuol dire che l'apparato vuol dire che l'SSD appartiene a quella VLAN perciò se prendiamo il caso di questa rete che sto facendo io sto dicendo che il primario del 2.4 ha la VLAN 2 gli altri come vedete non membro non membro vuol dire che solamente il primario della rete 2.4 sostanzialmente solo il primario della rete 2.4 è nella VLAN 2 può essere che io decida di metterci anche la 5 giga del primario questo non è un problema cioè per cui io posso dire che chi si collega sia la 5 giga che la 2.4 va comunque sulla VLAN 2 indifferentemente dalla frequenza che utilizza perciò io posso anche selezionare più di questi elementi cioè perciò non è detto che io associ sostanzialmente a una VLAN un solo SSD io posso anche associare più SSD in solo in questo esempio noi abbiamo deciso di prendere un univoco in modo che cosa succede che ci sarà un'altra configurazione dove io dirò che la VLAN 3 ad esempio è per chi si collega al 5 giga vuol dire che di fatto chi si collega a seconda dell'SSD diventerà anche la discriminante per accedere a una determinata VLAN oppure l'altra l'altro discorso che poi bisogna fare è andare a vedere poi sempre nel VLAN in questa sezione è andare a controllare praticamente che nell'impostazione PVD che sia abilitata la voce a sediazione automatica del PVD cioè sostanzialmente questo campo che vediamo qua è l'impostazione PVD perciò elenco VLAN elenco porta aggiungi modifiche l'impostazione VLAN deve essere abilitata perché è abilitata perché permette di gestire al meglio la gestione del tag delle VLAN per cui per fortuna la gestione del tag del VLAN per porta è automatizzata è importante che non lo sia cioè verificate che sia effettivamente così ecco era il discorso che dicevo prima sostanzialmente perciò i pacchetti escono taggati abbiamo visto che io credo la VLAN 2 la VLAN 3 la VLAN 4 qualsiasi VLAN escono tutti taggati in modo da poter portare sulla plink tutti i tag possibili e sulla 1 è l'antaggata in questo caso che è la VLAN chiamiamola così management che in questo caso abbiamo deciso di lasciare sulla 1 essendo tutte VLAN taggate ovviamente lo switch dall'altra parte deve leggere tutte le taggate cos'è che manca per far sì che queste VLAN possano comunicare tra di loro sempre che debbano comunicare tra di loro è il cosiddetto routing cioè il routing tra le VLAN allora anche qui si aprono due possibili scenari non c'è routing perciò tutto quello che abbiamo fatto finora è io ho creato una rete questa rete è isolata dall'altra dalle altre reti e di conseguenza cosa succede che a questo punto io vado sulla mia VLAN ma sullo switch avrò poi una serie di percorsi avrò una serie di percorsi che mi permettono di arrivare a un router che poi va in internet per cui in realtà la VLAN 2 che ho comunicato prima è una VLAN completamente isolata che ha a sua volta anche un router che gli permette di andare su internet in questo caso perciò non esiste un inter VLAN routing esiste solamente il routing verso internet per cui in questo scenario c'è l'assess point collegato allo switch che a sua volta è collegato a un router geografico e perciò l'assess point non fa altro che arrivare allo switch avere la sua VLAN e appartenere perciò alla sua VLAN dove dentro c'è anche il router all'interno di questa determinata VLAN e di conseguenza alla fine questo avviene sostanzialmente in una rete completamente distinta nel caso invece di fatto che la risorsa sia condivisa cioè parliamo perciò del router c'è il discorso di dover farsi che in pratica questa sottorete possa vedere praticamente il router condiviso per fare questo lavoro perciò serve qualche attore all'interno della rete che si occupi di fare il routing dell'Air 3 permette perciò alla rete dove si presenta il router di poter parlare con le reti che sono le reti dove si trovano poi di fatto i nostri access point che è differente dalla primaria ecco questo attore può essere perciò che cosa o uno switch che fa l'Air 3 un firewall oppure può essere anche uno switch messo in assimetrica VLAN con quella funzione che dove io condivido le VLAN tramite una VLAN di condivisione perciò di fatto ho diverse possibilità per fare questo lavoro normalmente la cosa che noi consigliamo è di far sì che le VLAN in questo caso che ruotano arrivano a un firewall perché questo ci permette poi di avere sul firewall un controllo maggiore di quello che si potrebbe fare sui switch perciò arrivano e a questo punto la subnet ci permette la subnet di ci permette di decidere di come filtrarla di come bloccarla di permettere che cosa che contenuti permettere che cosa permette all'utente che si trova su una rete guest da fare nel momento in cui questa rete guest si approccia al file però ecco vi ripeto sono diverse poi le possibilità ora parliamo dell'ottimizzazione della frequenza della potenza all'interno della funzionalità sotto i tre profili è possibile ottimizzare la 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 si può ottimizzare la potenza sono due campi regolazione del canale regolazione della potenza se regoliamo la potenza la frequenza è fino a 12 ore cioè si può decidere sostanzialmente che ogni 12 ore vada a praticamente a verificare la potenza cioè fanno scanning e vada a verificare la potenza queste sono due funzionalità molto utili vi ripeto che mentre la frequenza funziona anche con nucleus connect spento la potenza invece non funziona se nucleus connect è disattivato e non funzionante e ottimizzano l'armonia diciamo di funzionamento di access point all'interno della rete oltre a questo esistono scheduling wireless la wireless permette di stabilire la connessione wireless in base all'ssd viene perciò stabilita la durata della connessione in base alla schedulazione cioè come ho deciso di schedulare e questo è abbastanza semplice si attiva si va un nome si decide quale ssd schedulare e poi si decide un calendario per la durata quello che notate è il wireless on cioè quando il wireless è attivo ok perciò in questo caso è attivo quando sull'ssd primario lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì a partire dalle 8 fino alla 20 nelle successive ore sostanzialmente non viene utilizzato viene disabilitato oltre a questo all'interno del nostro sistema c'è la possibilità di creare dei filtri IP per ACL cioè sostanzialmente nella CL non si tratta del solito filtro per MAC address dove io posso accettare o negare mentre nel caso del filtro IP io posso definire quale sostanzialmente sublet bloccare cioè io posso dire anche guarda che sostanzialmente all'interno di questa rete di questo ssd perciò questa rete non può andare verso la sub 192 che ho scritto lì 168 254 eccetera eccetera per cui l'IP scusate non la salmi ho sbagliato mi sono confuso l'IP che voglio bloccare e perciò di fatto posso fare un filtro bloccando l'IP che voglio che non vengono raggiunti potrebbero essere non so l'IP in questo caso del management degli access point ecco è un'altra possibilità cioè dire non possono raggiungere questi access point per cui non possono entrare all'interno ecco questa è una delle possibilità che si hanno in questo filtro configurazione di sicurezza avanzate load balancing partizione VLAN allora tutte queste funzionalità di partizione VLAN che ci troviamo in quella parte più in basso del nostro profilo che stiamo creando sostanzialmente sono l'integrità dei collegamenti vedete si è abilitata la funzione attivata in caso di sconnessione tra la porta LAN e la P tutte le perifiche che la wireless connessa a questa P vengono disconnesse funzionalità che può essere utile accesso Ethernet alla wireless alla wireless SAN e soprattutto connessione a stazione interna come vedete è il cosiddetto client isolation abbiamo diverse possibilità disattivate default non attiva le periferiche uguali non si possono comunicare tra loro lo stesso multi ssd cioè perciò di fatto creò il client isolation nella modalità guest la periferica non comunica con nessuna periferica della rete eccetto il gateway veramente molto restrittivo è una funzionalità particolare che normalmente noi utilizziamo ad esempio solo in alcune strutture particolari ad esempio gli alberghi perché a questo punto mettendo le modalità guest non solo il client non è in grado di parlare con l'altro client nel modo che abbiamo visto essere disabilitato ma sostanzialmente può solo vedere il ghetto di riferimento cioè può raggiungere solo il router di fatto e internet per cui è isolato funzionalità molto interessante appunto per creare maggiore sicurezza di default è abilitata in modo che di default i client via wireless possono comunicare tra di loro oltre a questo ci sono altre funzionalità come il band steering se io ho due SSD con lo stesso SSD due scusate due SSD con frequenze diverse perciò uno due quattro uno cinque GHz con nomi identici posso attivare il band steering cioè vuol dire che di fatto un client che si connette al 2.4 può essere spostato automaticamente su 5 GHz anche contro la sua volontà nel senso che lo decide il sistema portandolo direttamente su 5 GHz nel momento che attivo questa funzionalità questo qualche volta succede nel momento in cui ho dei client che magari si sono connessi prima al 2.4 e non riescono a riconnettere su 5 GHz cioè ricontinuano a ritornare su 2.4 perché di fatto pur essendo le credenziali uguali di fatto continuano a non volersi sganciare dal 2.4 andare sul 5 in questo caso forziamo il client a lavorare sulla parte 5 GHz qua poi viene un'altra funzionalità interessante che è la AirTire Fairness è una funzionalità che permette di gestire al meglio sostanzialmente tutti quei dispositivi più lontani datati che potrebbero rallentare la connessione e perciò di fatto va di fatto a gestire meglio la comunicazione tra i vari client perciò bilanciare meglio la comunicazione tra i vari client dando creando meno problematica ai client più performanti questo perché normalmente capita che all'interno di una rete wireless sappiamo benissimo che la connessione di client di vecchia generazione o la distanza di questi client più lontani potrebbero creare problematiche anche agli altri client a livello di appunto di qualità della comunicazione ecco con l'attivazione della AirTown Fairness noi riusciamo a ottimizzare anche questo tipo di comunicazione è un flag che venga configurato e perciò si attiva e si ha appunto questo beneficio all'interno della rete per quanto riguarda il load balancing abbiamo poi che cosa diverse modalità ad esempio se lo consideriamo per limite di connessioni abbiamo la possibilità di definire i limiti di utenti se preferibilmente l'11n rispetto periferiche non l'11n adesso ovviamente è stato modificato scusami che ho accortato sono un po' una slide vecchia ma gli ultimi mi sembra che sia il C ma comunque è stato modificato l'utilizzo della rete e superato la soglia nel quale appunto sono impostata la piva in paso per il minuto permettendo il decondicionamento della rete cioè tutte funzionalità interessanti normalmente devo dire la verità io uso quasi sempre il limite di utenti però insomma anche le altre possibilità presenti sono più che altro sono sempre valide oppure si può fare per il Gintime oppure si può fare alla fine anche per velocità dei dati cioè se il valore sostanzialmente non è è inferiore al valore configurato del candido e viene disconnesso dalla piva sia per aging time cioè per la misura di potenza del segnale sia per velocità dati sono sempre due elementi abbastanza interessanti anch'essi cioè sostanzialmente è anche interessante ad esempio fatto per velocità dati perché permette di avere una qualità nella minima di comunicazione cioè non lavorare sul numero degli utenti come io spesso faccio ma lavorare sulla qualità della della comunicazione cioè perciò impostare e stessa cosa avviene di fatto nel momento in cui io lavoro per SSI andando a impostare un SSI che permette di avere una qualità all'interno della rete Captive Portal con local user non è difficile è funzionalità abbastanza semplice si riprende sempre il nostro mitico SSD lo si apre sostanzialmente abbiamo visto che all'interno di questo SSD c'è una serie di funzionalità i menu a tendina li scorrete un po' tutti ovviamente qua ho dovuto compressarli perché non ci stavano nella slide arrivate fino a un menu dove ci si parla di autenticazione di utente e selezionate nome utente password una volta che fate questo lavoro sostanzialmente potete intanto selezionare il tempo di attività che è sempre utile e poi andare nella sezione user e password e finire ad inserire fino a 128 utenze queste sono 128 utenze statiche normalmente local user viene utilizzato per tutti quegli utenti che sono continui cioè nel senso non sono molto occasionali sono magari arrivano sempre si vuole mettere il captive portal però sono utenti che saltuariamente arrivano all'interno della nostra rete e non voglio che però vadino direttamente sulla rete stessa per cui filtro la connessione tramite un captive portal ovviamente tutto questo comporta un'ultima parte che è la sezione dell'indirizzamento web indirizzamento verso sito dopo l'autenticazione dell'utente la possibilità perciò di fare un indirizzamento web di personalizzare la pagina splash e poi caricare la configurazione ecco una cosa che non ho ancora sostanzialmente parlato ma non ho ancora spiegato obiettivamente lo spiegherò perché è una cosa ancora un po' di nicchia per quanto riguarda poi noi all'interno di questi captive portal cioè per cui se torniamo a sostanzialmente all'inizio di questa configurazione abbiamo scelto local user troverete anche gli ultimi firm l'ultimo firm l'ultimo nucleus connect che sta praticamente disponibile o che sta per essere disponibile cioè parliamo perciò della versione 1.1 0 l'ultima anche il supporto per wifi for you cioè sostanzialmente la possibilità di utilizzarlo praticamente nell'ambito del progetto wifi for you cioè quel progetto di hotspot pubblici gestiti dalla comunità non europea in quel caso vedrete che la cosa è molto semplice basta selezionarlo e poi abbiamo ottimizzato tutto cioè sostanzialmente si seleziona si personalizza solo la splash page per quello che è venuto in mente perché stavo guardando qua e si personalizza solo quella mettendo magari il logo del comune della struttura dove appunto siete ed è finita lì per cui diciamo che negli ultimi firmware è stato aggiunto anche la modalità wifi for you per quanto riguarda appunto l'unione europea per la questione dell'unione europea per cui se avete un progetto di questo genere e software che avete non lo supporta ditelo che lo facciamo avere ma questo software che è wifi for you sostanzialmente lo abbiamo già in versione beta e sarà ufficiale a brevissimo per cui si parla ormai di qualche massimo di qualche settimana forse addirittura vengo smentito perché magari è già presente su qualche sito comunque ormai il software è pronto ecco questo è un po' il discorso del wifi for you continuando i nostri capital portal con ticketing in questo caso sostanzialmente dove abbiamo anche la possibilità di creare un ticket allora il tipo di autenticazione si definisce come passcode in questo caso time in attività mettete anche qua poi create un utente in sistema gestione utenti creiamo un utente staff desk ok perciò in gestione utenti dobbiamo creare un utente che crea il ticket di fatto per cui non basta avere solamente quello bisogna creare l'utente dopodiché una volta creato questo utente questo dal sistema gestione utenti prevedere utenti bisogna andare e vedete che siamo nella sezione degli utenti a dargli la possibilità di gestire questa rete perciò l'SSD di questa rete il fatto vale che poi lo troveremo sostanzialmente nella slide sotto e poi meglio qua torniamo un attimino sopra e praticamente alla fine vedrete che ha fatto questo lavoro qua vedete la rete e perciò gli ho detto che utilizziamo a front desk l'utilizzo della rete di via negroli è sostanzialmente questa rete attiva per quanto riguarda il front desk cosa manca sempre per il front desk di accedere a questo punto di caricare la configurazione e di accedere tramite l'account dedicato perché non è più l'account di accesso a Nucleus ma è l'accesso del front desk perché l'abbiamo autorizzato il front desk a gestire quella rete avere autorizzato a gestire quella rete vuol dire che nel momento che io entro all'interno di questa pagina dedicata non vedo più la configurazione di fatto di tutta la rete ma vedo solo la parte di captive portal vedo perciò la mia rete che ho autorizzato ovvio che se autorizzo più reti vedo più reti differenziate e a questo punto io di fatto ho la possibilità appunto di fare che cosa di creare di vedere l'SSD generare i passcode la loro durata l'ultimo giorno attivo ad esempio e limiti di utenti e generare e stampare o modificare il modello o vedere l'anteprima di stampa cioè perciò vedere una serie di dati che sono quelle appunto legate al ticket che io do all'utente poi nella fase successiva io sempre in visualizza modifica elimina vedo i ticket ok per cui si possono rimodificare o eliminare questo magari arriva qualcuno vi chiede di rimodificarlo e sostanzialmente agite su questo discorso ora l'ultima parte di questa presentazione è legata però alla gestione del captive portal relativamente al fatto nel momento in cui io ho però il multi SSD finora noi abbiamo visto il ticketing il local user abbiamo visto perciò le funzionalità di captive portal nel momento in cui però non c'è le VLAN cioè sostanzialmente o meglio questi captive portal si trovano sulla VLAN ma se i captive portal che io voglio erogare cioè parliamo del ticketing e del local user di tutti questi captive portal non si trovassero sulla l'SSD primario e su una VLAN diversa come avviene la configurazione allora se dobbiamo considerare uno scenario più complesso da una parte c'è il nostro access point da una parte c'è il router c'è lo switch e c'è il nostro server per cui tutti questi elementi che compongono all'interno della rete e di fatto tutti questi elementi che compongono all'interno della rete ci permettono di definire che cosa che io voglio fare sì che voglio avere un DHCP attivo sulla VLAN 2 che questa VLAN avrà 192 168 10X come sostanzialmente Sub-NDP e avrò il captive mi serve perciò un motore che faccia da routing allora una cosa importante da dire subito inizialmente prima che procediamo è che il motore del captive portal risiede sull'assess point cioè perciò risiede su management di conseguenza risiedendo su management qualsiasi sostanzialmente cosa che noi facciamo deve permettere a questi P di poter raggiungere sostanzialmente quella subnet che vediamo 192 168 X perché tenendo conto 215 ma X perciò deve poter raggiungere questa subnet perciò questa subnet la 192 68 10X deve poter parlare con questa perché cosa fa il nostro access point il nostro access point parla con la rete arriva qui sostanzialmente tramite il router arriva e qua trova i nostri vari access point e qua lasciamo stare non tanto il cvm ma gli access point che gli rispondono e gli dicono ok l'interfaccia web il capo di porta ti apre la pagina di capo di portal per cui essendo la pagina di capo di portal residente sul primario o meglio sulla management non sul primario sul management è importante che perciò questa rete possa raggiungere sostanzialmente gli access point cioè l'ip di management degli access point ecco questo è un po' il succo che c'è dietro tutta questa cosa per fare questo cosa bisogna fare bisogna intanto andare nella sezione ssd vlan e avere già configurato l'ssd e poi andare in impostazione interfaccia ip e abilitare l'interfaccia ip perciò assegnare un'interfaccia ip dare la vlan e dire sostanzialmente qual è sostanzialmente il gateway di riferimento di questa vlan per cui noi stiamo dicendo solamente che quella rete ha quella rete quella ssd ha un suo determinato gateway perciò tutti gli access point che sono all'interno di quell's sd punteranno a un gateway questo gateway non è il gateway geografico attenzione è un gateway che serve solo agli access point che poi sarà quello che ruoterà il gateway che ruoterà poi il router ok perciò di fatto cos'è che io poi faccio una volta fatto questo non faccio altro che andare su una qualsiasi macchina che possa fare routing attivare il dhcp del caso e permettervi fare routing tra le varie due submit sostanzialmente vedete qua che io non ho fatto altro che mettere 10.1 e poi nella successiva mettere come i pietri a 10.100 perciò non ho altro che fatto che comprendere quell'IP all'interno di questa sabre di ruotare sulla default per cui questo permette perciò a tutte quelle periferiche che hanno quella sabre di poter raggiungere il nostro obiettivo perciò qui sto lavorando non tanto sull'assess point ma sto lavorando a livello di router no qua si parla della porta collegato all'IP mettiamo la porta in modalità trank perché ovviamente deve poter raggiungere e sempre a livello di router configurare la porta 1.1 in modo di minimo così da prendere l'IP del router dovrà essere in THCP cioè queste sono tutte funzionalità a parte l'esempio che servono sostanzialmente a spiegarvi questo concetto cioè il fatto di permettere alla sottorete dove io non ho fatto altro che andare a inserire un'interface IP a livello di Nucleas di poter parlare con la parte di manager alla fine di tutto questo ovviamente si aprirà il capo di portal e questo capo di portal se allargate l'immagine vedete è in realtà l'indirizzo IP di manager mentre della se spoglie concludo visto che sono leggermente in ritardo con la manutenzione diagnostica aggiornamento firmware e allora nella sezione aggiornamento firmware possiamo aggiornare gli AP anche modulo schedulato selezionate il firmware e poi viene una cosa molto semplice potete farlo subito o in una fase successiva gestione database backup di Nucleas la possibilità di avere sostanzialmente di fare il backup del database si può fare l'abilità si attiva il backup in automatico con la relativa schedulazione oppure il file di backup si può scegliere se sarà la complicazione il log oppure entrambi questo backup è importante alla fine nel caso succede qualcosa per il ripristino del sistema in ultimo e ho concluso ho la possibilità di vedere che cosa nella parte monitoring di andare verso la parte destra e andare a inserire tutta una serie di informazioni che sono nascosti che mi permettono di allargare i dati delle informazioni perciò posso vedere nella parte monitoring posso vedere una serie di informazioni cioè che sono quelle del reboot accedere all'assesspoint per vederlo i suoi indirizzi IP indirizzo MAC il nome dell'assesspoint e via andare perciò tutte quelle informazioni che poi versione firmware anche perciò tutta una serie di informazioni utili che permettono di avere uno scenario poi totale su quello che è la configurazione vi ricordo che in ultimo io vi ho mostrato una parte di configurazione ovvio che con l'arrivo dell'ultimo software di Nucleas Condit questo è un software che continua in evoluzione per cui continuiamo a aumentare funzionalità cercando di mettere più funzionalità a vostra disposizione e chi mi ha seguito ieri ha visto che questo software è un'evoluzione per cui continua a crescere a livello di funzionalità di access point supportati perciò questa non può essere una guida totalmente esaustiva ma credo di aver toccato alcuni punti principali che possono permettervi sostanzialmente di configurare di partire con una buona configurazione appunto del sistema io ho concluso a questo punto sostanzialmente con la mia presentazione se ci fossero anche qui vi ricordo delle domande aspetterò qualche minuto oppure ci rivediamo sempre domani per altre presentazioni sono ovviamente presenti su questi schermi praticamente per tutta la settimana a inizio della prossima per cui sono a disposizione per altri sono a disposizione per domande e ovviamente ci vediamo per quanto riguarda altri webinar nei giorni successivi allora c'è una domanda solamente sulla parte ovviamente di routing allora la parte di routing è la parte ovviamente un po' più spinosa all'interno del sistema perché di fatto spinosa nel momento in cui io decido di andare a fare multi SSD le VLAN e decido di fare il captive portal perché per il resto non è complessa cioè se noi andiamo a vedere sostanzialmente tutto quanto è così però ecco diciamo che la parte è più spinosa nello scenario del portale ecco la domanda c'è sull'altra interfaccia di rete solo attivando i routi intervLAN nel DSR viene stabilita la connessione tra la VLAN e la VLAN 2 sì esattamente sì in questo esempio sì perciò viene stabilita la connessione tra la VLAN 1 e la VLAN 2 cioè perciò in realtà la VLAN 2 è il DSR che fa in questo nostro esempio potrebbe da 600.000 fa dare un motore di routing tra le varie VLAN per permettere alla VLAN 2 di poter raggiungere la VLAN 1 e di vedere sostanzialmente il management e perciò aprire la parte di carti di portal perciò di fatto se volete in questo tipo di architettura la criticità usate un po' questo termine lo dico e qua lo nego ma comunque la criticità sta nel fatto proprio che il cap to import risiede sulla parte di management perciò risiedendo sulla parte di management è necessario fare quel discorso che vi dicevo e apprendere un po' di capire come funziona quella parte un'altra domanda se si possono avere presentazioni offline nessun problema perché tutte queste presentazioni vengono registrate sono disponibili per cui basta chiederle alla parte marketing direttamente e le fanno vere cioè a livello di formato di tutto per cui sostanzialmente credo anche a livello di presentazione comunque non è un problema oppure scrivete a me se volete direttamente ecco è necessario attivare l'intervonal routing tra le VLAN sì è per forza perché se non attivo l'intervonal routing tra le VLAN sostanzialmente non sono in grado di poter raggiungere la parte appunto di management per cui di fatto in questo tipo di architettura sì è necessario qualcosa qualcuno che permetta di fare questo tipo di lavoro sostanzialmente bene vedo non mi sembra che sono arrivate altre domande perciò io vi saluto e vi ringrazio per l'attenzione di nuovo comunque in ogni caso sono a vostra disposizione molti di voi mai mi conoscono perciò sono sempre disponibile nel limite del tempo e di tante altre cose ma comunque sono ancora a disposizione vi ringrazio ancora per l'attenzione vi saluto per l'attenzione per l'attenzione